Di uomini, io dico per bene, di uomini volenterosi, di uomini munifici che mettono a disposizione il loro impegno personale e anche qualche contributo economico per creare e svolgere dei service che servono alla città e che lasciano un segnale per l'educazione dei giovani perché istituzionalmente il Kivanese come mission ha l'educazione dei giovani e dei minori in particolare. Attenzione che voi avete già posto al commissario straordinario del Comune di Trapani. Al commissario straordinario noi abbiamo chiesto già per tempo la nomina del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Devo dire onestamente che il commissario attuale ha accolto favorevolmente l'iniziativa e ha già predisposto l'iter consigliare perché di nome la consigliare e quindi alla fine di questo percorso noi avremo finalmente a Trapani la figura del garante dell'infanzia che non è una cosa fine a se stessa eccetera ma è la base per ulteriori sviluppi di tutti i club e service e non solo. Saranno presenti i presidenti degli altri club e service ma sarà anche presente un rappresentante nazionale? In questa occasione verrà il governatore distrettuale cioè del distretto Italia San Marino della cui presenza noi naturalmente tutta la divisione 7 di Trapani ci sentiamo onorati.